Buongiorno e benvenuti al primo appuntamento in diretta con l'informazione di TRG. Martedì 30 aprile siamo con Tg Mattino, prima pagina. In pochi minuti andremo a vedere gli argomenti principali che i quotidiani che troverete in edicola vi propongono e della cronaca che tiene viva le prime pagine dei quotidiani locali con l'arresto del rapiratore seriale ma anche con la grave ustione per un bambino che è avvenuta a Terni. Si torna poi nella parte nord dell'Umbria in Alto Tevere con la movida violenta senza dimenticare ovviamente l'arrivo del ministro Locatelli in Umbria con le tappe a Perugia e non solo. Iniziamo dunque il nostro tour fra i quotidiani con il messaggero che appunto apre con la cronaca grave bambino ustionato Terni il piccolo di 15 mesi sarebbe scivolato nella vasca colma di acqua bollente. La corsa al pronto soccorso e di trasferimento in elicottero al Gemelli di Roma. E ancora a Foligno per ridurre i tempi d'attesa nelle liste d'attesa chiamati anche i medici dell'esercito. Nella parte destra c'è l'intervista dei Cesaris, uni stranieri istruzioni senza frontieri ma anche beni culturali, agabiti, arrivano 4 milioni per le aree archeologiche. Invece per quanto riguarda la cronaca, come detto Perugia, notte di follie in centro, denunciati 7 ragazzi per i furti. Sempre a Perugia 4 rapine in 2 mesi nei parcheggi, preso 36enne, agiva armato di pistola. E ancora sul Corriere dell'Umbra che cambia decisamente argomento, tornando a parlare del sisma, i sopravvissuti di Castelluccio, il nostro cruista, scusate, nei paesi distrutto dal terremoto del 2016. La ricostruzione sta per iniziare le speranze degli abitanti rimasti. Sulla destra per quanto riguarda le anticipazioni, arrestato un rapinatore seriale a Perugia, a Terni, acqua bollente, ustonato, un bambino e ancora l'intervista a cui si respira la pace vera. Per quanto riguarda invece La Nazione, incubo finito, alt al rapinatore seriale, una nuova apertura completamente diversa dalle altre due ma sempre sulla cronaca, Perugia, in tre mesi, quattro aggressioni, sempre armato di pistola. Continua la caccia al complice. Nella parte alta prosegue ancora gli argomenti di cronaca da Città di Castello, bloccati fuori dal bar con tirapugni e coltelli, due hanno solo 16 anni. E ancora raid in città, denunciati sette ragazzi, Acropoli, la notte dei vandali. Nella fotonotizia centrale, le voci dal trionfo, Sir Susavin Perugia, di volley, campione d'Italia. Grande festa per il tricolore, il presidente Sirci, stagione perfetta. La gioia dei tifossi, noi sempre in trasferta, siamo una grande famiglia. Furia Bandecchi, in consiglio a Terni, siete incapaci e invidiosi di me? Il ministro Locatelli, Vannacci e i disabili sono solo parole. Perugia si prepara il giro d'Italia, in centro soltanto con il mini-metro. E ancora nuovo Curi, scuola sanità, scoccia, la vedo così. E non si poteva non parlare delle stangate tari, ecco la mappa degli aumenti. Torniamo dunque a vedere da vicino le pagine del messaggero, burocrazia e tasse, gli incubi delle imprese. Una ricerca del CNA pone l'accento su criticità e prospettive delle piccole e medie imprese. Preoccupano anche le troppe difficoltà a reperire, mano d'opera specializzata. E qui appunto i quattro punti che sono i dettagli dell'indagine. Beni culturali dal Ministero, 4 milioni di euro per l'Umbria. E ancora sempre sul messaggero, si parla dell'Università per stranieri, istruzioni senza frontiere. L'intervista a Valerio De Cesaris, il rettore dell'Ateneo Internazionale di Perugia, fa il bilancio di tre anni. Avviato programma di borse di studio per formare docenti di italiano di domani. Un viaggio nell'UniPG per orientarsi meglio sempre per quanto riguarda appunto il mondo delle università. Passiamo al Corriere con una doppia pagina, come avete in qualche maniera sentito anche dall'apertura del quotidiano, i custodi di Castelluccio tra mandri, lenticchie, sogni e realtà. Un viaggio tra i pochi abitanti rimasti nel paese che non c'è più, aspettando l'avvio imminente della ricostruzione a quasi otto anni dal sisma. E ancora passando invece alla Nazione, si apre subito con la mappa degli incrementi per quanto riguarda la Tari. Ecco quanto aumenta la bolletta, salasso per pagare l'inceneritore. Continua la polemica sulla stangata che nelle prossime settimane arriverà a casa dei cittadini. L'assessore Perugino dice, abbiamo contenuto le variazioni, Da noi la tariffa cresce meno che altrove. E in questa infografica ci sono tutti i momenti della Tari in alcuni comuni dell'Umbria. E ancora proseguendo il Giro d'Italia in centro soltanto con il mini-metro, mancano dieci giorni alla grande evento. E apriamo dunque la parentesi della cronaca. Preso il rapinatore seriale, quattro colpi in tre mesi, sempre armato di pistola. Il commesso di un negozio, una donna, una coppia ed un'anziana. Ecco le vittime del 36enne finito in carcere a capanne. Gli agenti della questura danno però la caccia anche al complice. Nel frattempo c'è anche una raffica di controlli della polizia ferroviaria nelle stazioni di Perugia e Foligno. Atti vandalici e furti, denunciati sette giovani. Notte brava tra venerdì e sabato, calci alle auto in sosta e almeno due abitazioni svaleggiate. Sono stati trovati con la refurtiva tre anno tra i 15 e i 17 anni. Questa volta sono stati fermati dai carabinieri. Sir Perugia da favola, Sir ci parla di un anno perfetto con quattro titoli e di tifosi meravigliosi. Il presidente del club di pallavolo, entusiasta e felice. La governatrice Tesei Orgoglio Umbro, la Gabiti, parla di un sogno. La prima di russo incredibile, sole e scudetto per tutta la città. E qui anche una foto della Sir Susa Vim Perugia, campione d'Italia, con tutti ovviamente i protagonisti di questa cavalcata. Noi sempre in trasferta, sacrifici e lacrime di gioia. La voce dei supporter che sono nelle due immagini, nella parte destra del teleschermo. Verso il G7 su inclusione e disabilità. Due giorni in Umbria per il ministro Vannacci. La Lega è chiarissima, ha detto Alessandra Locatelli, che appunto è nel cuore verde dell'Italia, dove proseguono i lavori in vista del 14, 15 e 16 ottobre prossimi. Quelli della generale sono solo parole, ha detto. Io ho in mente il tema della riforma per le persone di cui ora mi occupo. E su questo tema poi, più tardi, avvedremo anche un servizio dell'incontro che c'è stato ieri nella prefettura di Perugia. Disabili, botta e risposta tra Dem e Carroccio, proprio sulle parole del generale Roberto Vannacci. La Perugia di scoccia, continuiamo dunque a parlare in qualche maniera di politica. Nuovo curi, prematura, una scelta prima del voto, scuole, più tempo pieno. Intanto il Partito Democratico, una lista di valore, presentati i candidati al comune, 18 uomini e 14 donne. E adesso andiamo a vedere da vicino le pagine locali, riprendendo con il messaggero e partendo proprio dalla pagina dedicata al capoluogo di regione, vale a dire Perugia. Scoccia, cinque mosse per la città del futuro. Serve un nuovo PRG, dunque si torna a parlare di politica. E ancora un'area verde intitolata Di Matteo a Balanzano. Perugia e Montone in nome di braccio, sinergie ed iniziative in favore del turismo. E ancora con la cronaca, notte folle in centro, le auto spaccate dopo i furti nelle case. Identificati e fermati dai carabinieri, sette giovani, tre minori. Uno era stato espulso a gennaio, recuperati e anche gli oggetti d'oro rubati. Intanto sulla destra del teleschermo, cento bimbi a lezione di educazione stradale, gli agenti della Polstrada, ieri alla Montessori. Quattro rapine in due mesi con pistola e mascherina. Arrestato, pregiudicato nigeriano. Donna quasi ucciso. Questa volta a intervenire è stata la polizia. Critiche alla sindacalista. Viene assolto niente difamazione. Per i giudici di appello, il lavoratore ha espresso su Facebook Critiche nei limiti di legge. Saliamo in Alto Tevere. Baby gang scatenati a 16 anni con i coltelli. Città di Castello, spedizione punitiva dopo un litigio. Nei guai, tre giovani. Il primo screzzo è la reazione fermata dai carabinieri all'esterno di un locale. Velocità e cellulare. Umberta, de'araffiche di multa sempre da parte dei carabinieri. Ecco 18 maestri del lavoro nuovi. La premazione domani in provincia. E a Città della Pieve a teatro con una serata antiviolenza. Passiamo a Foligno. Intesa con i medici militari per ridurre le liste d'attesa. Un'intesa tra USL2 e centro di selezione per uno scambio di professionisti. Gli ufficiali così potranno lavorare negli ambulatori se sarà necessario. Elezioni in quattro per la sfida del sindaco di Foligno, ovviamente. Zuccarini per la riconferma. E poi ci sono gli sfidanti Masciotti, Finamonti e Presilla. Minaccia di togliersi la vita salvata dai poliziotti grazie alla geolocalizzazione con il cellulare. Passiamo ora a Spoleto per una settimana. Il meglio della danza da tutto il mondo. Saranno 300 i giovani in gara al prestigioso concorso internazionale. Previsti tanti anche eventi collaterali con mostre, presentazioni di libri e ovviamente conferenze. A Beroide torna la Sagra dell'Anguilla. Mentre arriva in giro la città è tirata a lucido. Mentre per quanto riguarda la rotatoria e lo svincolo della Flaminia, il Comune frena per il via ai lavori. Siamo a Terni, Comune il sindaco Bandecchi e tra cinque anni non mi ricandido il primo cittadino sul voto di sfiducia alla Presidente. Se manca un voto mi dimetto di nuovo. Intanto è stata rinviata la discussione sulla Tari. Canta maggio e la notte della sfilata dei carri. Per la prima volta i colossi di Cartapesta resteranno esposti fino alla fine della festa. Da via Mazzini fino a Piazza Europa per un tragitto lampo che fa un po' discutere secondo il quotidiano romano. A Piediluco intanto apre il parco inclusivo. L'area verde è stata attrezzata dal Comune per far giocare in sicurezza anche i bimbi disabili. Musionato dall'acqua calda grave un bimbo di 15 mesi. Si torna dunque su una delle notizie che è stata un po' l'apertura dei quotidiani. L'incidente durante il bagno quotidiano, poi la corsa in auto all'ospedale Santa Maria. Il piccolo stabilizzato a pronto soccorso, poi trasportato con l'elicottero a Roma. Narni, ubriachi e vandali in centro scattano i primi allontanamenti. Barista arrestata per spaccio di cocaina, il questore chiude il locale per un mese. Finisce nei guai anche un collega della donna trovato con delle bustine di droga nascoste in tasca. Nel novembre scorso era stata sospesa la licenza per la terza volta per la presenza di alcuni presudicati all'interno appunto di questa attività commerciale. Agricollina è l'edizione dei record. Sono stati oltre 30.000 i visitatori. 205 gli espositori hanno sfilato a Monte Castrilli più di 100 trattori storici. In concomitanza c'è stata l'inaugurazione della Big Bench Route, il primo cammino al mondo dedicato alle panchine giganti. Loredana Bertè sarà la stella alla Palaterni. Spostiamoci ora al Corriere dell'Umbria, ripartendo proprio dalla pagina di Perugia. Arrestato rapinatore seriale, un nigeriano di 36 anni e accusato di aver compiuto quattro colpi in tre mesi armato di pistola. La polizia è a caccia del complice. Furti in centro storico, sette giovani denunciati. Tra gli intercettati c'erano anche tre minorenni, come abbiamo visto. E ancora sempre per quanto riguarda Perugia con la politica scoccia, piano per il decoro urbano da 100 milioni. La candidata del centro-destra e civici ha presentato in programma revisione del piano regolatore tra le priorità. Stadio, progetto da approfondire, ha detto. Qui appunto sono due pagine dove si parla di politica perché in quella fianco c'è anche il centro-sinistra con la squadra del PD che ora è ufficiale. Il commercialista per rotta sarà il capolista. Ci sono 18 uomini e 14 donne. Sempre per quanto riguarda Perugia, primo maggio a Solfagnano, apertura straordinaria della tenuta che per l'occasione darà ai visitatori l'opportunità di partecipare ad attività esclusive. E sempre per quanto riguarda il Corriere ci spostiamo nella zona del Lago a Tuoro sul Trasimeno con Minciaroni che dice pronta per il bis. Il sindaco uscente ha ufficializzato la ricandidatura in vista delle amministrative. Intanto a Castiglione del Lago la Corte dei Conti critica il bilancio, l'attacco dei Fratelli d'Italia e della Lega alla Giunta Burico. Mentre a Panicale, clima e agricoltura riconoscimento per Leonardo Caproni. Il ricercatore dell'Istituto di Scienze delle Piante della Scuola Sant'Anna di Pisa ha vinto il premio Filippo Re. Da qui andiamo ad Assisi, piatti tipici e turismo lento per promuovere il territorio. E' lo scopo della nonata associazione Umbriamoci che lancia anche un festival per il 2025. Sempre ad Assisi gli oratori si incontrano, due giorni di formazione per più di mille animatori. E ancora calendimaggio oggi si svelano le Madonne Primavera. La regina della festa sarà scelta giovedì 9. Stasera nei rioni delle parti sono in programma le cene propizzatorie aperte ai soli tesserati. E da qui andiamo a Todi perché la Elcom System fa 60 doppia festa per i granieri. Oltre alla cerimonia di oggi Paola Moroni è stata insignita della stella al merito del lavoro. Taglio del nastro per la mostra fotografica di Ilaria Sagaria. E ancora passiamo a Gubbio, una necropoli romana accanto al mausoleo di Pomponio Grecino. Le ricerche dell'antica Iguvium continuano a regalare soddisfazioni. Resti individuati grazie a georadar e l'utilizzo della magnetometria. Sempre da Gubbio, ladri in azione a Zappacenere e nella zona di Sant'Agostino. La banda ha approfittato dell'assenza dei proprietari per fare razzia di tutto. A Città di Castello, ragazzi con coltelli e tirapugni. I carabinieri hanno denunciato un 24enne e due sedicenni per possesso di armi bianche ed oggetti atti ad offendere. 50.000 euro per le famiglie con i figli autistici. Da oggi al 30 maggio sarà possibile presentare le domande di ammissione per accedere alla misura di sostegno economico prevista dal comune. Vola Holy Wine, staccati oltre 5.500 biglietti, si è chiusa l'undicesima edizione della rassegna dedicata ai piccoli produttori. Sono state 145 le cantine presenti in fiera, provenienti dall'Italia e dall'estero. E ancora, alunni in visita e in comune ad Umbertide, Carizza, cittadini consapevoli. Gli studenti della Garibaldi sono stati ospiti in municipio e hanno incontrato il sindaco. Indisciplinata al volante, raffica di multe per l'uso del telefonino. Intanto uno straniero è stato segnalato anche come assuntore di stupefacenti. E da qui passiamo a Gualdo. San Pellegrino celebra il maggio. Domani pomeriggio sono in programma le viste guidate alle chiese in collaborazione con il FAI. La festa è arrivata all'edizione numero 1020. Questa notte il borgo rivive il miracolo del bastone fiorito. La storia di Tullio Ciotti è raccontata in un libro. Il figlio Luigino ha ricostruito le vicende del padre, un internato militare italiano in Germania. E ancora ad affari tuoi, Paola accetta l'offerta e vince 60.000 euro. A Foligno presentata la lista del Movimento 5 Stelle. Svelati i nomi dei candidati pentastellati a sostegno di Masciotti. Fantauzzi, dice, rappresentato tutto il territorio. Una ragazza tenta di uccidersi gettandosi nel vuoto a pale. Provvidenziale è stato l'intervento dei poliziotti dopo una drammatica telefonata al centralino da parte di un familiare. E ancora, CSRNE e USLE 2, l'Unione fa la forza. Rinnovata la sinergia tra la caserma e l'azienda sanitaria per il reciproco supporto del personale medico. Acquista abiti sul web e viene truffata la girata una folignate. La ditta fa perdere le tracce una volta incassata la caparra di circa 100 euro. E ancora a Spoleto, Maxi e Rotatoria slittano i lavori. Raggiunto l'accordo con ANAS per posticipare a settembre gli interventi sullo svincolo sud per non ostacolare così i grandi eventi. 300 partecipanti alla settimana internazionale della danza. Sarà un'edizione ancora più ricca di quella che ha preso il via ieri all'interno del Teatro Nuovo Giancarlo Menotti. Studente a lezioni di festival. Spazio anche al dietro le quinte. Dedicato a chi ama assistere ad una rappresentazione teatrale. A Campello sul Criturno cambia proprietà distributore dell'acqua alla spina mentre sempre a Spoleto aspettando il giro mezzancella sul palco di piazza Garibaldi. A Terni il sindaco cancella la minoranza. Bandecchi ai consiglieri di opposizione dice d'ora in poi non conterete più niente e non vi ascolteremo più. Ancora raccolta rifiuti sarà una rivoluzione. Annuncio del primo cittadino. Introdurrò cassonette intelligenti. Un robot calcolerà la taric giusta. Intanto appalto per accoglienza a migranti. Rigettato ricorso della prefettura. E il pronunciamento del consiglio di Stato. Ancora su Terni grave ustioni per un bimbo di 18 mesi. In ospedale a Terni è stato stabilizzato. Poi trasferimento con il risoccorso al Gemelli di Roma. Da qui al Cantamaggio è la sera della sfilata dei carri. A sfidarsi San Giovanni, Pallotta, Polimer, Sabbione, Arrone, Monte Castrilli, Cesi e Luriaccio. A Orvieto Biagioli sceglie il primo maggio per presentarsi. Camilla Lauretti e Walter Verini domani a Ciconiglia per il lancio delle quattro liste che lo appoggeranno. A Narni infastidiva i turisti. Arresto ed aspo urbano per un 33enne in azioni carabinieri. Diviti di ritorno per il vandalo dell'ascensore. E ancora sempre da Narni, concluso dal Comune, l'acquisto definitivo delle gore del Nera. Ambiente medievale ricostruiti da Mezzule, Fraporta e Santa Maria. Intensa giornata di appuntamenti per il cartellone della Corsa all'Anello. Passiamo alla nazione ripartendo dalla zona del lago Trasimeno. Festa del Tulipano, il club, sfilata in notturna tra petali, luci e colori. I quattro carri partiranno dai giardini della Rocca di Castiglione del Lago. In una suggestiva atmosfera, ma ci sarà spazio anche per i gruppi foicloristici, musicali ed artistici. A Magione ecco i vincitori del Trasimeno Fumetto. Mentre sempre a Castiglione del Lago, il PD blinda la ricandidatura di Burico. Esperienza e risultati hanno spiegato. Siamo ad Assisi, piazza Matteotti si cambia. Nuovi spazi nel parcheggio. Lavori entro l'anno alla struttura pluripiano, più luce e sicurezza pedonale. Confermate le navette turistiche del primo maggio da Santa Maria verso il centro storico. Da qui passiamo a Gubbio dove si parla sempre di un'altra piazza, questa volta a Piazza Grande. La Rinascita, il cuore di Gubbio pronto a salutare il ritorno dei Ceri. Domenica di festa con la discesa dalla Basilica e la riva a Palazzo dei Consoli per restaurare il simbolo della città, 130.000 mattoni con il rebus dei reperti. Ma anche su questo più tardi vedremo un servizio di approfondimento proprio per il taglio del nastro della piazza. Omaggio del Barbetti ai protagonisti della grande storia rosso-blu, settori intitolati a Vispi, con la Iacobo, Simoni e Brugnoni. Intanto a Gualdo Tadino avvia lavori nei parchi, si comincia dalla Pinacoli, mentre per quanto riguarda invece le amministrative a Gubbio, ecco la lista di 5 stelle insieme ad Alessia Tasso. A Città di Castello, fuori dal bar con coltelli e tirapugni, 3 denunciati, 2 hanno 16 anni, lo abbiamo già visto. I ragazzi delle rugby battuti, ma comunque è festa. Mentre si torna a parlare anche in questo caso di Olly Wilde, 5.000 brindisi, superato il record di presenze. A Foligno, patto rinnovato tra Esercito e USL2, medici militari anche in ospedale. E da qui a Spoleto, ancora in azione i furbetti dei rifiuti, spuntate le frecce del comune. Di quattro fototrappole che sono state installate nel comune di Spoleto, ne è rimasta in funzione solo una. A questo punto è allarme di scariche abusive. Per di pubblico scattano i lavori dopo le proteste. Passiamo ora a Terni, altro consiglio comunale al veleno. Lira del sindaco sulla mozione. Scritta da incapaci, ha detto i miei avvocati, porteranno tutti in tribunale. Siete individui ignobili, invidiosi di me, ha detto ancora Bandecchi. Resta ostionato a un bambino di 18 mesi dal Santa Maria a Roma con l'elisoccorso. Per quanto riguarda invece cocaina dietro al bancone del bar, sigilli al locale per 30 giorni. Il provvedimento del questore dopo l'arresto della titolare è la quarta volta che l'esercizio viene chiuso. Ad orvieto verde curato dai ragazzi della comunità a colonnetta di Prodo. E con questa notizia noi ci fermiamo per quanto riguarda la prima pagina. Ma restate con noi perché subito dopo inizia TG Mattino con servizi approfondimento e tanto altro. Lo aspettiamo a fra poco.